Gira attorno a Delea, poi taglia Banks e va ad appoggiare in qualche modo Adrian Banks, prende l'applauso del pubblico, così come lontano Nick Perkins, la finta fa saltare Delea, poi va ad appoggiare una giocata da guardia, Mianna, Graciulis, Delea va ad appoggiare, subisce anche il fallo di Mattia Udom, molto fisica e quindi Fernandez adesso prova il fingerolo proprio con Delea, poi in surplus, Fernandez riesce, c'è ancora Zanelli, lo scarico per Redivo, la sua finta prova ad andare fino in fondo, Redivo appoggia a Tadellone, un altro eccellente canestro per il giocatore qui inquadrato. Quest'anno a Brindisi, Sanders va in uno contro uno, va a depositare lasciando sul posto Zanelli che non riceve l'aiuto nemmeno dei compagni, Ciappe difende bene però Cavaliero, lo scarico poi per Udom che va ad appoggiare ed è anche un po' opportunato ed è costretto al time out, adesso alla fine del secondo quarto Redivo si alza ancora da tre, ancora Redivo! Sanders ancora molto lontano dal canestro, marcato da Perkins, prova ad andare fino in fondo e realizza il trentottesimo punto che porta le squadre, Melis con gli autoi per la sua nazione di l'estima, rischia il pubblico sull'attacco per il visino, Josh Perkins la parte opposta Sono tanti gli errori messo in questo frangente, poi il taglio è perfetto per la Giudice Fa di tutto ma la palla è conquistata da Trieste e va dalla parte opposta per la Giudice a depositare Sbaglio a schiacciare, Sarano, Conate, Zanelli adesso 10 per più di relazione Brindisina quindi Visconti ha spazio, si alza lui da tre, Visconti risponde Conate uno contro uno con Cartera, spazio il giocatore del Mali, vediamo se riesce ad andare fino alla fine e riesce a depositare la scallata, chiama palla a Nick Perkins, sale a portare il blocco vediamo se si chiude il gioco a due, Perkins si alza da lontanissimo il tiro da tre per Josh Perkins, ha subito la stoppata, adesso Trieste nuovamente avanti 9 per più di relazione con Sanders, febbra! Il rimbalzo è conquistato però da Marco Sveglia nell'angolo, ci prola A rimbalzo, poi Zanelli, quindi Adrian non tira, il pallone per Perkins tira lui e non sbaglia, ancora due punti per Nick Perkins qui ne palla il giocatore argentino, poi va lui a concludere con il destro, per il mondo sbaglia anche il secondo, con la conclusione del chat vince a Trieste 4, 4, 2 Vincendo Saino, scompetta anche Vincenzo di Tassi grazie a tutti grazie a tutti